Chiudiamo con il segno dei pesci, sono state giornate quelle con la luna in cancro davvero eccitanti, adesso insomma potete prendervela un po' più comoda, potete anche godervi i piaceri della vita di tutti i giorni, della normale routine, della normale vita in famiglia, tra le porrette domestiche, con i vostri cari, con il vostro partner, perché è sempre l'amore ad essere protagonista in questo momento. Avrete la possibilità di trascorrere anche dei momenti divertenti, allegri e spensierati, certo se siete alla ricerca di emozioni forti non è questo il giorno giusto, non è il giorno ideale, è una giornata in cui dovrete un po' accontentarvi delle piccole cose.